Pronto? Pronto con chi parlo? Pronto, sono Benedetto XVI. Benedetto, sono il cardinale De Falso. Dove si trova adesso? Adesso trovo la città... Benedetto, alzi la voce! Stop per abbandonare città di Vaticano! Benedetto, lei starà scherzando. In quella chiesa ci sono persone che l'aspettano. Torni su quel cupolone! No, posso salire tanti scalini, stanco a mia età. Benedetto, adesso lei sale su quel cupolone e mi dice quante donne, quanti bambini e quanta gente vede. Vedo milioni e milioni di fedeli provenienti di tutto il mondo e diversi colori gialli, neri e bianchi. Benedetto, lei magari si salverà in paradiso ma io le faccio passare qui le pene dell'inferno. Vada in Vaticano, cazzo! Non creitare!